Parità fra Como e Cesena, due squadre con programmi chiaramente differenti. Il Como cerca la strada per risalire la classifica. Il Cesena, nella sua posizione, non ha voglia di correre rischi in trasferta. Primo tempo piuttosto scialbo con un attraverso di Fontolan e nessuna parata di Rigamonti favorito dalla manovra Cesenate che opera sulla fascia centrale del campo. Su azione nata da una discesa di Rognoni, Urban alza sopra la traversa. Ripresa col Como proiettato all'attacco, il Cesena chiude i varchi e si creano situazioni confuse con parecchi giocatori ammucchiati ai limiti dell'area. Qui tira alto Scanziani. Qualche occasione anche per i Cesenati. Bitolo conclude uno scambio con Zuccheri ma alza troppo la mira. Le azioni del Cesena non hanno certo il ritmo e la forza di penetrazione di domenica scorsa contro il Milan. Finale col Como sempre più deciso a conquistare i due punti. Pozzato impegna Boranga in una parata in due tempi. Poi il portiere del Cesena meritarsi gli applausi con due interventi decisivi. Sottiro di Iachini che ha sostituito Cappellini infortunato e infine fermando all'incrocio dei pali una deviazione di testa su calcio d'angolo battuta da Correnti. Como e Cesena restano sullo 0-0.